... dell'ufficio dei beni culturali saremmo qui, quindi oltre a questo... Ecco, io sono contento che oggi siamo qui in tante istituzioni perché dimostriamo di avere questa armonia tra di noi e credo che anche per i calabresi sia un segno importante di novità forse anche... Sì, ecco, continuiamo. Se mi è invitato oggi ad essere qui, è un invito che ho fatto con piacere per presentare appunto... ... in occasione dell'incolonazione di Carlo il Calvo e i due momenti di preghiera sono attestati anche dagli annalesi di San Bernardino, per te. Il Chimaro ha degli studi su Flavio Magno, che è l'edificazione dello senatore, un personaggio come abbiamo già visto forse poco valorizzato nell'ambito della sua stessa terra.